Se sia stata una bravata, una semplice disattenzione, lo diranno le indagini dei carabinieri. Quel che è certo è che un 19enne di Scorzè versa in gravi condizioni all'ospedale, dopo essere letteralmente volato dal finestrino della vettura nella quale si trovava con alcuni amici ieri sera a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. Un terribile trauma cranico dopo aver battuto con violenza la testa sull'asfalto. Un gruppo di quattro amici a bordo di un pick-up, il 19enne sul sedile posteriore, e poi, nella frazione di Sant'Ambrogio, il dramma, poco dopo le 20. Dopo una curva, il ragazzo sbalzato fuori dall'abitacolo. L'ipotesi al vaglio è che si fosse esporto eccessivamente, non si sa perché, dal finestrino, tanto da cadere fuori al momento della svolta. Il giovane si trova ricoverato in ospedale a Padova nella terapia intensiva del reparto di neurochirurgia. Nelle ore che hanno seguito il ricovero è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per tentare di ridurgli il trauma cranico riportato nell'urto con l'asfalto. Gli altri occupanti dell'auto sono stati a lungo sentiti dagli inquirenti, mentre il mezzo è stato sequestrato. Grazie. 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 Grazie.